Torniamo di nuovo davanti al centro nazionale di Piediruco, torniamo in compagnia di Erika Bello. Ciao Erika. Ciao a tutti. Ti abbiamo lasciato lo scorso anno in singolo a lottare agli europei contro quelle gigantesche donne dell'Est. E adesso ripartiamo dal singolo, perché oggi hai fatto la batteria. Sì, ho fatto il singolo Pesi Leggeri, è andato bene, ho vinto. È stata una batteria comunque impegnativa, perché eravamo io, Valentina Calabrese, Giulia Pollini e Leonora Trivella, quindi era già una batteria, un bel test. Però devo dire che è andata abbastanza bene, perché sono partita tranquilla, i primi colpi ho avviato bene la barca e poi mi sono messa sul ritmo, su un passo e ho visto che comunque stavo bene, anche fisicamente buone sensazioni, anche se non abbiamo scaricato mai per queste gare, perché siamo in ritiro da due settimane. Quindi va bene così. Come procede il raduno? Il raduno abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto la scorsa settimana anche il test fisiologico, sul 2000 massimale e abbiamo iniziato a lavorare, quindi era prettamente lavoro. Quindi bene. Marito, lo senti durante i raduni? Una volta al giorno, due volte al giorno? Ti sta sempre vicino? Sì, lui, vabbè, io dico sempre con Angelo perché mi sopporta. No, è sempre presente, anche se non siamo sempre al telefono, come tutti pensano. Però nei momenti del bisogno lui è sempre presente, questo è importante. Andiamo verso Londra 2012, ci saranno le prove di qualificazione a Lucerna. Ricordiamo che tu ti eri già qualificata ad Atlanta. Insomma, io prima parlavo con Rossano e dicevo, tu sei sempre su Twitter adesso, vent'anni dopo, Barcellona. E sedici anni fa che faceva Erika Bello per ingannare il tempo? Eh, sicuramente non c'erano tutte le cose che ci sono oggi, iPod, computer, Facebook, c'erano libri, Cruciverba. Ecco, io forse mi dedicavo soprattutto al Cruciverba, al Crucipazzola, anzi. E quello era il mio passatempo preferito, sedici anni fa. Oggi anche io mi sono un po' modernizzata. Se volevi scrivere qualcosa lo potevi scrivere sul muro di casa o sul muro dell'hotel? Sì, sicuramente era così, insomma, il Lido, qualche segnale sul Lido c'è, sulle mura del Lido. E anche il telefono, adesso abbiamo la comodità del cellulare, ma sedici anni fa ogni giorno chiamavo papà, sempre, quando ero nei momenti difficili, papà, 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 papà. Ma anche adesso da Civitavecchia la famiglia Bello ti continua a seguire? Sì, e si è pure allargata perché tra nipoti, cognati, quindi sì, la famiglia si è allargata e mi seguono tutti. Poi sono ritornata al Civitavecchia, quindi c'è proprio l'intera città che mi segue con affetto. E questa è una cosa che comunque mi riempie di gioia perché è bello sapere che sono seguita così. E poi corri sempre nel segno dell'Unicef? Quello sempre, è un progetto che oramai ho accolto due anni fa e mi sento proprio parte di questa grande iniziativa perché è importante e contribui anche per i bambini più bisognosi. Ognuno di noi dovrebbe fare comunque con qualcosa. Grazie Erika Bello! Grazie a voi! Grazie a voi!